Entusiasmo alle stelle, gente da tutta Italia e da tutto il mondo. La terza tappa del Tour de France è stata una festa in grado di riunire migliaia di appassionati o semplici curiosi, dalla Francia ovviamente e addirittura dagli Stati Uniti. Non sono mancati gli appassionati da fuori provincia, così come i piacentini. Noi siamo venuti da Roma viaggiando di notte e siamo qui per il Viale del Tour, siamo grandi appassionati. Non è la prima volta che veniamo a vedere il tour, ma è la prima volta che lo vediamo a vedere in Italia. Piacenza ci ha accolto, come meglio non ci poteva accogliere, una città a misura d'uomo, unica, piacevole, bella da vivere, le prime impressioni insomma sono più che positive. Vengo dalla provincia di Como, la prima volta a Piacenza, purtroppo perché è bellissima, ci sono dei palazzi storici fantastici e è molto bella, bella esperienza. Siamo oggi qui a Piacenza per vedere il Tour de France, arriviamo da Sorani in provincia di Parma e siamo qui naturalmente per Tifare, Tadej, Pogacar. Sono un appassionato e chiaramente ciclista, Piacenza la conosco bene perché è la mia città, è organizzato molto bene il tour, sono contenta di essere qui. Il mio ciclista preferito, non ce ne sono tanti, in questo caso Tifiamo Pogacar perché comunque è quello che al momento sta andando fortissimo e niente, viva il Tour!